Il ritmo è un elemento fondamentale per chi vuole andare ad eseguire brani R&B, soul, gospel o comunque il genere diciamo di radice afroamericana. Un motivo storico c'è perché noi abbiamo cominciato a parlare di ritmo proprio perché gli stessi cantanti e gli stessi interpreti di questo genere hanno iniziato avvicinandosi alla musica attraverso una movimentazione che loro chiamavano drum beat. Quindi ci si muoveva attraverso dei clap, dei clicks. I cantanti di blues e di gospel delle prime ore aggiungevano anche un po' di percussioni con la loro voce. Quindi nel dodici ottavi che ho fatto prima io potrei dire per esempio Cioè quest'idea del ritmo è all'interno proprio della nostra voce che si va a muovere pensando sempre a dove vengono posti gli accenti ritmici delle battute. Questo discorso è veramente molto importante perché la dinamica e quindi ciò che poi va a creare emozione quando il cantante di questo genere canta un brano è anche data dal tempo interno che noi sentiamo.